E' la persona giusta per gestire la delicatissima fase di start-up dell'aeroporto di Comiso. Per il sindaco Spataro non ci sono dubbi, Rosario Di Bennardo va riconfermato alla presidenza della Soaco SPA. Il primo cittadino comisano questa mattina in conferenza stampa ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a sciogliere le riserve sulla nomina cinque giorni prima della riunione dell'assemblea dei soci della società di gestione. Rosario Di Bennardo viene riconfermato perché in questa fase di start-up noi reputiamo che sia la persona più giusta per guidare i primi passi dell'aeroporto di Comiso. Avendo lui e tutto il suo staff combattuto in questi anni perché questa infrastruttura si potesse rendere finalmente operativa ci sembrava uno sgarbo intanto istituzionale non dare la soddisfazione a un presidente che merita di accompagnare per mano i primi passi di questa infrastruttura. dall'altro perché Di Bennardo in questi anni si è fatto un know-how importante, insomma conosce fatti, cose, persone per cui cambiare la guardia in questo momento sarebbe secondo me diventato qualcosa di molto rischioso e siccome voi comprendete che questi primi passi sono fondamentali e segneranno il discrimine tra il successo e l'insuccesso di questa infrastruttura diciamo abbiamo proceduto in questo modo perché questo modo ci sembrava fosse il più corretto e il più giusto per il bene dell'infrastruttura, della città di Comiso e dell'intero comprensorio.